Ciao e benvenuto in questo video dove vedremo come rimuovere una filigrana trasparente in pochi semplici passaggi. Iniziamo, vai nella barra strumenti e seleziona lo strumento selezione oggetto. Clicca sui due quadrati, aggiungi a selezione, poi su lazzo. Ora dobbiamo selezionare ogni singola lettera. Se lo sfondo è omogeneo puoi selezionare più lettere assieme. Se Photoshop ha selezionato per errore una zona non desiderata, premi su alta, noterai un simbolo meno sotto la freccia che ti permetterà di deselezionare la zona non necessaria. Ora dobbiamo espandere la selezione di qualche pixel. Vai nel menu selezione, modifica, espandi e imposta 5 pixel. Poi con il tasto destro del mouse clicca sulla selezione e seleziona riempi. Scegli in base al contenuto e conferma con ok. Per deselezionare premi comma d o control d. Il risultato è ottimo. Andiamo ora a correggere solo qualche piccola imperfezione sul dito. Seleziona il lazzo, disegna la porzione da sostituire e premi su riempimento generativo. Poi su genera. Ora seleziona il risultato che preferisci. Come puoi vedere abbiamo rimosso in pochi minuti la nostra filigrana trasparente. In questo video andremo a vedere come rimuovere una filigrana nera in pochi passaggi. Iniziamo. Vai nella barra degli strumenti e seleziona lo strumento selezione rettangolare. Ora seleziona le scritte nere. Non devi essere preciso perché tra poco selezioneremo solo il colore nero. Una volta selezionate le scritte vai su selezione, intervallo colori e seleziona ombre. Regola la tolleranza finché non vedi le scritte diventare completamente bianche. Io imposto un valore di 9 pixel e lascio invariato l'intervallo. Ora abbiamo le nostre scritte selezionate alla perfezione. Il prossimo passo sarà espandere la nostra selezione di qualche pixel. Sposta il cursore nel menu in alto. Vai su selezione, modifica e poi espandi. In questo caso io seleziono 10 pixel e come vedi ora la nostra selezione si è espansa di 10 pixel. Questo passaggio è fondamentale per rimuovere completamente le scritte. Ora clicca con il tasto destro del mouse sulla selezione e scegli riempi. Poi imposta in base al contenuto e premi ok. Come per magia le scritte sono sparite e Photoshop ha ricreato le parti mancanti del viso della ragazza. Premi Command D o Control D per deselezionare le scritte. Ho notato che ci sono due piccole imperfezioni che ora andremo a correggere con l'intelligenza artificiale di Photoshop. Fai zoom sull'orecchia destra e poi seleziona il lazzo, seleziona la zona e premi su riempimento generativo. Fai la stessa cosa sullo zigomo sinistro. Con il lazzo seleziona la zona, premi su riempimento generativo e scegli l'immagine che più ti piace. Esiste un altro modo per eliminare la filigrana e nel video qua sopra ti mostro un altro metodo semplice per rimuovere la filigrana trasparente. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale.